Gentili telespettatori, buona giornata. Il sole 24 ore parla dell'effetto Trump. Meloni scala la classifica dei premier europei lasciandosi dietro Macron e Schultz. Scrive il giornale economico italiano, la premier con il vento in poppa, maggioranza solida, con senso personale crescente ed è il premier del terzo paese dell'Unione Europea, sotto l'aspetto economico. Ma soprattutto in questi due anni ha mantenuto e ha continuato a mantenere forte il suo rapporto con la destra americana, un rapporto anche per esempio con Elon Musk che è il principale adesso alleato, sostenitore e politico del nuovo presidente degli Stati Uniti. Adesso in tanti in Europa guardano come l'Italia di Giorgia Meloni come il referente per la nuova amministrazione degli Stati Uniti. Senza doverlo rivendicare la premier in questo momento la premier italiano è il leader con maggior chance per tenere la testa dell'Europa, essere alla testa dell'Europa. Intanto il vertice che c'è in corso a Budapest, il primo ministro ungherese Orban, tifoso del nuovo presidente dalla prima ora, ma certo il leader ungherese non è in alcun modo candidabile come rappresentante europeo perché il paese con tutto il rispetto non ha la forza all'Ungheria per potersi presentare come referente dell'Europa. La Meloni dice noi sappiamo cosa dobbiamo fare, ora il punto è se vogliamo dare agli Stati membri le risorse necessarie, questo è il vero dibattito e non so se questa mattina arriverà soluzioni concrete ma è l'elemento centrale. Partiamo dal presupposto, dice la Meloni che io sono assolutamente convinta che l'Europa e quindi anche l'Italia debbano riuscire a garantire la loro maggiore indipendenza, la loro maggiore autonomia anche investendo di più in difesa, chiaramente servono gli strumenti per poterlo fare. Questo è un grande dibattito che riguarda il patto di stabilità che l'Italia ha posto, ci sono nel nuovo patto delle aperture, secondo me vanno molto di più e va fatto molto di più e quindi penso che questo sia un altro di quei dibattiti che bisognerà prima o poi riaprire. I due paesi principali per economia in Europa che sono la Germania e la Francia, il primo PIL europeo è la Germania, poi c'è la Francia e poi c'è l'Italia, questi due paesi, Francia e Germania, sono alle presi con crisi politiche interne che minano completamente la leadership di Macron e Scholz. Olaf Scholz ha perso negli ultimi test elettorali il consenso popolare, è privo della maggioranza parlamentare quindi è un leader finito, oggi il governo tedesco in questo momento non conta nulla in Europa e non meno pesante quello che succede in Francia dove Macron da solo sta pensando dicono a un possibile addio alla politica prima della scadenza del suo mandato nel 2027, mentre Giorgia Meloni è in auge, è in cima alla classifica oggi maggioranza solida, consenso popolare addirittura crescente, cioè dopo le elezioni del 2022 il consenso personale cresce, la fiducia in lei cresce, Fratelli d'Italia cresce. Ma soprattutto in questi due anni la leader italiana ha mantenuto i suoi rapporti saldissimi con la destra degli Stati Uniti, l'intesa con Elon Musk che è il principale sostenitore economico, politico, sociale del nuovo presidente degli Stati Uniti ed è l'uomo più ricco del mondo che fra poco diventerà il primo trilionario della storia del pianeta, che ha intenzione assolutamente di investire in Italia, naturalmente con dei vantaggi fiscali non indifferenti. Ecco, Elon Musk ha schierato la sua macchina social assieme a centinaia di milioni di dollari a sostegno del candidato repubblicano. Ecco, il patron di SpaceX, di Tesla, di X e da anni oggetto delle attenzioni di Meloni è stato più volte a Palazzo Chigi, lo scosto dicembre è stato lì come ospite d'onore anche ad Atreiu e gli ha chiesto di essere lui a consegnare a settembre il Global Schizenhour. È un valore aggiunto, dice la Meloni, del nostro tempo e un possibile interlocutore, dice proprio in queste ore. Dall'altra parte c'è il capo, Ursula von der Leyen, che alla fine è a capo dell'Europa, però non è un presidente del Consiglio, non è a capo di uno Stato, quindi Ursula von der Leyen è la rappresentante dei paesi, però alla fine chi conta è il leader politico più influente del momento, che in questo caso è la Meloni. E lo scrive il Sole 24 Ore, non è che lo scrive il giornale Tempo Libero o qualche giornale fiancheggiatore del governo. Lo scrive proprio un giornale economico, questa è la differenza, quindi non lo scrive né la Repubblica alla stampa, non lo scrive il giornale Il Tempo Libero, ma lo scrive comunque un giornale economico che comunque cerca di essere indipendente dalle influenze politiche. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video, tra una ventina di minuti, massimo un'ora. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate almeno un video al giorno, poi questi video sono caricati sulla pagina di Facebook che si chiama Luca Vincitore, dove lì se vi sono interessati li potete assolutamente condividere con chi volete. Grazie nuovamente a tutti, ricordatevi che poi, grazie a voi, il canale ha raggiunto 370 milioni di visualizzazioni. Buona giornata, a presto.